Allora abbiamo fatto una ottima partita, faccio i complimenti alle ragazze, li faccio anche quest'oggi perché non era facile, venivamo da una trasferta di Coppa impegnativa, oltretutto con una sconfitta però avevamo rabbia, l'abbiamo messa in campo, abbiamo messo in campo secondo me l'aggressività che ci serve che ci deve contraddistinguere, io sono molto contento perché ho visto per 40 minuti veramente tutte le giocatrici tutte le 12 che si sono sbattute alla grande dentro il parquet e secondo me abbiamo fatto anche una buona partita da un punto di vista del gioco quindi credo che questa sia la strada, anche se è ancora lunga, però siamo secondo me connessi nella maniera più giusta possibile